Le loro sagome spuntano da dietro le spalle del capofila, emulatori di un male che cambia faccia ed epoca ma non smette di fare terra bruciata. Giuda e i suoi seguaci, mercanti di bocche da sfamare e bocche da fuoco, che continuano oggi a distruggere la fratellanza costata il sangue di Dio. Papa Francesco li ha nominati e con loro altri seminatori di ingiustizie per 30 volte al termine della Via Crucis del Venerdì Santo lo scorso 25 marzo. O croce di Cristo, simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana, ha detto il pontefice davanti alla folla in silenzio, colpita dai tanti pilati, maestri dell'indifferenza verso chi soffre, evocati insieme coi distruttori della casa comune o coi ladroni che si vendono sul misero mercato dell'immoralità. O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei potenti e nei venditori di armi che alimentano la fornace delle guerre con il sangue innocenti dei fratelli e danno ai loro figli da mangiare il pane insanguinato. O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nel nostro Mediterraneo e nel mare Egeo, divenuti un insaziabile cimitero, immagine della nostra coscienza insensibile e narcotizzata. Una teoria del male dolente quanto la salita al Calvario, rivissuta attraverso le meditazioni proposte dal cardinale di Perugia, Gualtiero Bassetti, ma anche un elenco condotto da Papa Francesco come una nave alla deriva, all'approdo immancabile di una misericordia più grande e senza fine. O croce di Cristo, insegnaci che l'apparente vittoria del male si dissipa davanti alla tomba vuota e di fronte alla certezza della resurrezione e dell'amore di Dio che nulla può sconfiggere o scurare o indebolire. Tre giorni prima il mondo era stato ancora sconvolto dalla ferocia vile del terrorismo che aveva insanguinato la città di Bruxelles. Il peso di quel dolore era certamente nel cuore di Papa Bergoglio, disteso qualche ora prima della Via Crucis, sul pavimento della Basilica di San Pietro, gesto col quale apriva la celebrazione della Passione del Signore. Una strage che al predicatore pontificio padre Raniero canta la messa è servita per ricordare poco dopo che la giustizia di Dio è amore e mai vendetta. L'odio e la ferocia degli attentati terroristici di questa settimana a Bruxelles ci aiutano a capire la forza divina, sovrumana, racchiusa nelle ultime parole di Cristo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Per quanto lontano possa spingersi l'odio degli uomini, l'amore di Dio sarà sempre più forte. Un amore forte come quello testimoniato dal Papa il pomeriggio del giorno prima, giovedì santo, quando Papa Francesco si è recato per la messa in cena domini in uno dei centri di accoglienza per i migrati di Roma. Nella struttura di Castelnuovo di Porto, casa e riparo per 892 persone, una tenda bianca ha fatto da copertura a un altare semplice e a una cerimonia che il pontefice ama da sempre condividere con chi difficilmente avrebbe un posto in prima fila. Invece ancora una volta è stato lui stesso a inginocchiarsi davanti a 12 profughi con un catino e un asciugamano, non prima di aver messo a confronto quel gesto da schiavo di Gesù, fatto per amore, con il gesto di guerra degli attentatori di Bruxelles. Oggi, in questo momento, quando io farò lo stesso gesto di Gesù, di lavare il i piedi a voi, i dodici, tutti noi stiamo facendo il gesto della fratellanza e tutti noi diciamo siamo diversi, siamo differenti, abbiamo differenti culture e religioni, ma siamo fratelli e vogliamo vivere in pace.